Obbligo di comunicare al proprio medico curante il ritorno in Puglia e rimanere in casa per non meno di 14 giorni. Sono queste le disposizioni principali contenute nell'ordinanza firmata dal governatore Michele Emiliano per contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus nel territorio regionale. La risposta al preoccupante esodo di persone che alla luce del nuovo decreto del governo, che ha esteso le zone rosse nel nord Italia, in massa stanno facendo ritorno al sud, rischiando di allargare i contagi. Il provvedimento è stato emanato in nottata e da notizia attraverso i canali social è stato lo stesso presidente Emiliano. Riguarda quanti provengono dalla Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Pesaro e Urbino e poi Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria. Queste persone, specificato nell'ordinanza regionale, sono tenute a riferire al proprio medico di medicina generale di essere arrivati in Puglia e soprattutto dovranno osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario. La quarantena, in altre parole, mantenendo tale stato di isolamento per la durata di 14 giorni. Il provvedimento prevede anche per questi soggetti il divieto di effettuare viaggi e spostamenti e l'obbligo di rimanere raggiungibili per eventuali controlli sanitari. La mancata osservanza di tali disposizioni avrà conseguenze penali con l'arresto sino a tre mesi di reclusione o un'ammenda sino ad oltre 200 euro. A tali regole, disposte dall'ordinanza firmata da Emiliano, si aggiungono le novità introdotte dal decreto emanato questa mattina dal Consiglio dei Ministri e valide in tutto il territorio nazionale. Vale a dire la sospensione di manifestazioni ed eventi, così come delle attività di pub, scuole di ballo, sale scommesse e locali simili. Quanto ai ristoranti e bar i gestori avranno l'obbligo di far rispettare la distanza di almeno un metro tra i clienti, pena la chiusura dell'attività. Anche negli altri esercizi commerciali dovranno essere evitati assembramenti di persone. Misure severe ma necessarie per tutelare la salute di tutti ed evitare che l'incontrollata diffusione dei contagi possa mandare in tilt l'intero sistema sanitario regionale. I nostri ospedali sono pronti ma evidentemente non devono essere ingombrati inutilmente. Rispettare l'ordinanza è utile, non è una cosa superflua. Chiunque vi dica di sottovalutare questa situazione sta facendo del male a se stesso, a voi e a tutte le persone che amate e soprattutto ai vostri paesi, alle vostre terre, all'intera regione Puglia. Perché se conteniamo il contagio in questi giorni, se ne rallentiamo l'espansione, possiamo superare questa epidemia senza danni particolari. Ricordati anche che se non rispetti questa ordinanza che ho emesso stanotte, stai commettendo un reato e soprattutto sei passibile poi di un processo penale.